mira quanto è piccolina questa mira mira ha trovato una mamma mira mira è poco poco più grande dei gioiellini è questa piccolina bellissima è anche piccola non ci si rende conto quanto è piccolina ancora 800 grammi pesa è una nanetta una nanetta una guerriera che sopravvissuta al capodanno e il 3 gennaio l'abbiamo trovata noi che era più morta che viva questa nanetta questa nanettina bellissima bellissima una vera miracolina però mira e ha trovato mammina mira trovato mammina e anche fratellino un altro girondino è vero e mira mira è vero